Pasquale Ferraro è già pronto e fosse dipeso da lui quest'anno avrebbe già allenato in eccellenza sulla panchina della Forza e Coraggio con cui ha vinto il suo primo campionato di promozione eppure quello di Montesarchio ha un sapore diverso. E' vero, questa qui è quella che sento più mia, è stato un lavoro fatto proprio in prima persona sotto tutti i punti di vista, è una squadra che ho costruito quasi dalla Z, quindi io sto benissimo a Montesarchio con una società e un presidente che mi trattano benissimo, un gruppo di ragazzi al quale adesso sono legato anche a livello affettivo, quindi non vedo nessun motivo per andare via. Dopo l'esperienza dell'anno scorso dove io avevo un rapporto con il presidente della Forza e Coraggio che andava al di là del calcio, poi per un piccolo intupo poi si è rovinato tutto, nel calcio veramente ho imparato che quello che si dice oggi non vale domani. Valgono invece le panchine passate al fianco di Salvio Casale, il suo mentore, dagli anni della Ferrini. Valgono al di là di tutto, sebbene il rapporto si sia incrinato nell'ultimo anno. Quando ci sono delle grandi amicizie come è stata la nostra poi, voglio dire, diventa tutto più grande, poi il minimo intoppo si incigantisce, però che si sono rotti i rapporti, questo non cambia la stima, la stima e l'ammirazione che nutro verso di lui a prescindere da qualche episodio recente nei festeggiamenti, anzi con l'occasione per scusarmi pubblicamente se ho offeso qualcuno. Le scuse in diretta non sono da tutti, restituiscono la cifra ad un uomo ed un allenatore che nonostante i successi non ha perso l'umiltà. L'umiltà che lo spinge, nonostante sette campionati vinti a curriculum a soli 36 anni, a guardare ad altri allenatori con ammirazione da Casale a Ciccio Messina. Per me il Solofra è una squadra che dopo l'avvento di Messina è quella che mi è piaciuta di più, proprio per solidità, per qualità tecnica, per qualità tattica. Io ho un'ammirazione particolare per l'allenatore del Solofra, per me è uno degli allenatori migliori che c'è. Lo dico noi fatti, l'anno scorso ho giocato da avversario con il San Michele di Serino, quello prima di Messina e dopo Messina ed era una differenza enorme. Umile ma anche sincero Ferraro, Cervinarese che non lesina critiche alla squadra del suo paese, che un giorno lo ha lanciato in promozione. Cervinarese è stato un po' con la delusione di questo campionato, dobbiamo dire la verità, anzi non un po', un bel po', perché una squadra del genere non può rimanere fuori, diciamo praticamente da gennaio. E non esiste che una piazza e una squadra del genere a gennaio già per il campionato era finito. Dipendesse da lui, il Cervinare giocherebbe già in eccellenza, ma per ora la Cervinare che vince ha un nome e un cognome, Pasquale Ferraro.